e ciao ragazzi sono mario il coach come va come state passando questo periodo lo so non è facile ma non vogliamo dai forza insieme oggi vediamo come spaccarci le gambe dentro casa da veri strongman quindi dai un'occhiata a questi esercizi vedrai come lo squat può modificarsi trasformarsi e diventare micidiale sempre con il dettaglio che fa la differenza come visto dal titolo intermedio base avanzato quindi partiamo da quello avanzato dai un'occhiata elastico intorno al collo io ho usato quello da 40 kg più 40 kg quindi un elastico bello forte e da lì ho aggiunto anche una serie di manubri ma avrei potuto mettere anche delle casche d'acqua e quant'altro il livello intermedio invece togli l'elastico puoi utilizzare un bello zaino carico quindi ci metti un bel po' di libri lo sai che la cultura pesa ok quindi ci metti un bel po' di libri o utilizzi delle belle casche d'acqua il livello base togli l'elastico togli i pesi e metti delle bottigliette d'acqua e utilizza la sedia base ok quindi questi sono gli esercizi ora dai un'occhiata a cosa devi fare e per ultimo ti dico stai attento perché per quanto riguarda questa tipologia di esercizi ti lascio sotto il mio tutorial che ho fatto nascere di specifico su come bisogna eseguire uno squat in tutta correttezza quindi giù ti lascio il link in descrizione ti lascio la buona visione di questo video se hai qualche domanda lo sai cosa devi fare mi iscrivi sotto mi raccomando se ti piace il coach ti iscrivi al canale o al massimo lascia un mi piace così mi aiuterai a crescere e ci vediamo dopo allenati bene ciao 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 ciao